Allora proseguiamo con la nostra portapuce al Consiglio regionale del Lazio, Gaia Pernarella. La piano sui scalini, che è stato interessante. Buonasera a tutti, grazie, è veramente un piacere tornare dopo un anno qui a Latina, una città che ci ha portato veramente molta fortuna nelle scorse elezioni e speriamo di replicare questa fortuna anche con le europee, perché è veramente importante. So che le ragazze nostre deputate sono state molto convincenti, che hanno spiegato l'importanza di essere ben rappresentati. Fino ad oggi l'Europa per noi è significata soltanto una cosa, degli obblighi, delle tasse, delle scelte che non erano sicuramente, per la maggior parte dei casi, inerenti con la storia del nostro paese. Noi siamo un paese del Mediterraneo, quindi abbiamo sicuramente una storia diversa, una cultura, delle caratteristiche diverse da quelli che sono le grandi potenze europee. Però fino ad adesso abbiamo anche avuto dei rappresentanti che sono andati lì solo ad alzare le mani, senza studiare minimamente quello che succedeva e quali sarebbero state le conseguenze e i risultati per il nostro paese, per la nostra agricoltura. E potrei fare milioni di esempi per la pesca, per tutto ciò che riguarda la nostra economia, per le nostre piccole imprese, perché noi non abbiamo grandi industrie da foraggiare, ma dobbiamo invece pensare a quello che muove la nostra economia e quello che muove la nostra economia sono le piccolissime imprese, sono le imprese familiari, sono le imprese che chiudono ogni due giorni perché non riescono ad andare avanti. E noi ne vediamo tante di queste storie, voi sapete benissimo che i nostri uffici sono aperti, quindi noi in continuazione ascoltiamo storie di persone disperate che non sanno come arrivare a fine mese. E noi le soluzioni ce le abbiamo, le proponiamo, le coperture, i ragazzi sanno benissimo che ci sono, li spiegano in continuazione o almeno ci provano a spiegarvi dove si trovano i soldi per risollevare la nostra economia. E adesso finalmente arrivano questi fondi europei che il PD e non so come chiamarlo, il centrodestra, forse Italia, comunque quella gente lì, si riempie la bocca dicendo che adesso loro risolveranno il problema dell'Italia grazie ai fondi europei. Ma guardate signori, lasciate perdere, perché se continuate a fare come avete fatto fino adesso è meglio che state fermi, è meglio che fate fare le cose ai cittadini. L'anno di 2013 è stato l'anno della partecipazione dei cittadini in Europa. Qualcuno ve l'ha informato? Qualcuno è venuto da voi a chiedervi come volevate che venissero gestiti i fondi europei? Non mi sembra. La partecipazione dei cittadini è una cosa che spaventa i partiti perché non possono più fare i loro comodi, non possono più andare dalle persone che sono vicine dai loro amici, dai loro lobby, dai loro cerchi di influenza a dire ecco ti abbiamo portato quello che volevi e adesso mi raccomando ai voti che porti al nostro partito. Noi non ne vogliamo più questi meccanismi, non vogliamo più queste dinamiche, e noi vogliamo andare, decidere, essere partecipi della nostra politica. Ma voi dovete farlo. Cioè adesso che inizia il nuovo settennale e inizia la presidenza italiana abbiamo il dovere e il diritto di essere ben rappresentati in Europa. Abbiamo da poco approvato una delibera in regione perché sapete i fondi europei passano per la regione Lazio e io essendo in commissione insieme al nostro staff ci siamo messi lì a studiare punto per punto come verranno chiesti questi soldi, dove andranno i soldi per l'Italia e soprattutto per la regione Lazio che è tra le due regioni che danno più soldi all'Europa e quindi che dovrebbero riceverne di più. Beh, signori, qua è uscito fuori di tutto perché loro sono bravissimi a prenderci in giro. Uno dei temi fondamentali è l'inclusione sociale. Cioè, andiamo in Europa a chiedere soldi per l'inclusione sociale. Ma come loro? Loro che fino adesso ci hanno affamato. Loro che non ci garantiscono nulla dei diritti fondamentali che uno Stato europeo nel 2014 dovrebbe avere come dati e parlo del diritto al lavoro, del diritto alla casa, del diritto a avere una vita dignitosa per gli anziani e per i disabili. Loro non sono stati in grado fino ad oggi, in 20 anni che ci governano, a dare a noi questi diritti fondamentali. Adesso vanno in Europa a chiedere i soldi ma sono sempre loro che vanno lì, chiedono i soldi solamente perché sanno che c'è un gruzzoletto ma non sono in grado di gestirli, non sono in grado di fare una programmazione, non sono in grado di scrivere un budget chiaro perché non è possibile che un progetto arrivi in corso d'opera a costare milioni di euro in più perché devono far mangiare tutti i loro amici e quindi questi soldi si perdono e l'Italia rimane sempre indietro perché loro non sono in grado di gestire questi soldi e quando riescono a prenderli devono spartirli con i loro amici e non fanno nulla per noi. E questo è solo un esempio perché poi potremmo parlare dell'altro grande macro tema su cui l'Europa è impegnata, cioè la riduzione di CO2. Beh, il CO2 li riduciamo se smettiamo di dar da mangiare a mostri come incineritori e discariche. Noi qui siamo in una zona molto interessata, abbiamo la seconda discarica più grande del Lazio che viene gestita in maniera illegale da anni dove c'è un'indagine che ha portato a molti arresti ma non si fa nulla per ridurre questa situazione. Abbiamo una centrale biogas a Borgo Benzizia che è stato dimostrato da rilevamenti ARFA che ha superato tutti i limiti per quanto riguarda l'inquinamento delle falde a pifere ma anche per quanto riguarda le emissioni nell'aria. E beh, il Comune di Radica non si è neanche degnato di sanzionarla. Perché cosa volete? Cioè, questa è l'economia che noi vogliamo. In questo modo noi andiamo avanti. E poi andiamo in Europa a dire no, noi ci impegniamo a ridurre il CO2. Ma come? Con una mano fate una cosa e con l'altra invece fate l'esatto contrario. Ma credete veramente che noi abbiamo ancora la mella al naso? Cioè, credete veramente che potete continuare a prenderci in giro in questo modo? Basta, no? Io mi rendo conto che è difficile in una situazione sociale come la nostra credere che la situazione possa cambiare. E però noi lo dobbiamo fare. È il minimo che possiamo fare. il minimo che possiamo fare è il 25 maggio andare a votare e mandare finalmente queste persone tutte a casa. Perché, come dicevano le ragazze prima, non possiamo più fidarci di loro. È impossibile. Non c'è via d'uscita. Dobbiamo per forza di cose cambiare la situazione. La cambiamo con questa rivoluzione democratica che abbiamo deciso di portare avanti. La cambiamo da dentro. Vogliamo andare in Europa e dire basta che non ci vendiamo più. Noi siamo venuti qui per fare esclusivamente quello che i cittadini chiedono. Perché è quello il ruolo della politica. Adesso lo facciamo noi. La prossima volta spero tocchi a qualcuno di voi che ci sta supportando. ci sono i ragazzi dei gruppi dei meetup e gli attivisti che ci aiutano tantissimo che sono presenti sul territorio e a cui vi chiedo sinceramente di dare una mano. Veramente dedicare cinque minuti della vostra vita per fare qualcosa anche voi e per aiutare noi che siamo lì dentro e che siamo sempre disponibili ad ascoltare tutti e a portare la voce dei cittadini che sono appunto loro che dobbiamo dire a noi quello che dobbiamo fare. e non viceversa. Ecco inziate a controllarci. Controllate noi controllate pure loro e sicuramente le cose cambieranno piano piano non facciamo grandi rivoluzioni non facciamo promesse elettorali ma chiediamo a voi un po' più di impegno e noi continueremo a mettercelo fino a quando ci sarà data la possibilità di lavorare per voi. Grazie. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti.